Salve ragazzi, ben ritrovati! Oggi andiamo a vedere come si cambia il nastro abrasivo in una levigatrice combinata di questo tipo. Un'operazione piuttosto semplice, le uniche cose che ci occorrono chiaramente sono il nuovo nastro da sostituire, un cacciavite a croce e una piccola chiave che nel mio caso sarà da 6 mm. Allora, questo è il gruppo che dobbiamo andare ad aprire. Per farciò ci sono tre viti a croce con una rondella di sotto che va a bloccare questo carterino, questa placca. Semplicemente le dobbiamo allentare, non è necessario svitarle completamente, quindi 1, 2 e 3. Fatto ciò il carterino può essere mosso, può essere traslato in avanti, quindi in direzione del sottoscritto. Come vedete andiamo a sganciare le viti, le rondelle da questi tre fori, facendo corrispondere la rondella nel foro, nella parte più grande del foro e il tutto può essere rimosso. Tolto questo abbiamo il nostro campo di lavoro completamente libero, qui c'è la fascia da sostituire e le due pulegge. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Rigiriamo la nostra levigatrice, abbiamo il pomello che va a bloccare la puleggia superiore, semplicemente andiamo a svitare, si inclinerà leggermente e in questo avremo la possibilità di abbassarlo. Usiamo un po' di forza, tendiamo ad abbassare il tutto andando a contrarre la molla che ora vi faccio immediatamente vedere. Questa è la molla, vedete? Abbassando la puleggia si contrae, scusate, si comprime leggermente la molla lasciando la fascia libera. Come vedete si estrae molto facilmente. Io sto indossando i guanti, cosa che vi consiglio di fare perché comunque c'è sempre polvere, c'è sempre limatura. In questo possiamo vedere che rispetto alla puleggia superiore e al sistema di blocco c'è questo supporto di collegamento che poi si va a collegare a quello che è la molla. Nel mezzo troviamo una piccola vite di regolazione con un dado che nella fattispecie è da 6 mm e per questo mi occorre questa chiave. Questa vitina serve giusto per regolare l'allineamento della fascia una volta che la andiamo a montare perché magari il rullo si potrebbe mettere leggermente inclinato e in questo tramite questa vite abbiamo la possibilità di renderlo perfettamente parallelo al sottostante in modo che nel girare, nell'utilizzo, la fascia non vada né a destra né a sinistra consumandosi ai lati e quindi insomma facendo un cattivo lavoro. Abbiamo la possibilità di regolarlo perfettamente, farlo collimare come giusto che sia e per questo poi faremo un pochino di prove nel momento in cui andiamo a montare il tutto. Per montare la nuova fascia dobbiamo far caso alla freccia direzionale che troviamo stampata all'interno che deve corrispondere ovviamente alla freccia direzionale, al giro che effettua il nostro utensile. Quindi in questo caso questa è la direzione di lavoro e semplicemente passo per la prima e per la seconda puleggia. Voilà, il tutto è già inserito seguendo la direzione corretta. Arrivato a questo momento vado a mollare, ad aprire leggermente la puleggia superiore, vedete? Si mette già in trazione per effetto della molla respingente e lo vado successivamente a stringere. Stringere come si dice in cucina quanto basta affinché resti ben saldo. Faccio una prova a motore spento di rotazione, vedendo e verificando l'allineamento. Tende un poco all'esterno, non troppo, ma ciò già significa che devo andare a chiudere leggermente questa vitina, quindi se va all'esterno la vite va chiusa, se va all'interno la vite va aperta. Dopodiché, dopo aver mosso la vite con l'apposito cacciavite, andiamo a rimettere in tensione quello che è il dadino che la blocca, quindi in questo caso abbiamo detto che la devo leggermente chiudere. Andiamo a rimettere in tensione il dadino e nel momento in cui arriviamo al punto esatto possiamo bloccarlo definitivamente con la chiave. Ancora non lo faccio perché ancora devo verificare il corretto allineamento. rifacciamo la prova, ok, non tende più a fuoriuscire. L'allineamento è pronto, per cui adesso vado a stringere definitivamente il mio dadino, questo qua, blocco le vite e stringo. Una prova del 9 ci sta sempre, perfetto. e a questo punto, altro non devo fare che andare a riprendere il carterino, riposizionarlo in prossimità delle tre viti, fare caso che le rondelle fuoriescano dal carterino, perché se le rondelle che stanno sotto le viti stanno tra il carterino e la macchina, non servono a nulla, non bloccano. A questo punto le tre rondelle sono fuori, così come le tre viti. Non faccio altro che andare a serrare il tutto. Uno, due, e tre. E il gioco, come vedete, è fatto. Banda sostituita, strumento, utensile, pronto per l'uso. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao! 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 Ciao!